Ragazzi, benvenuti nel più grande aggiornamento di StumbleGuys che ci sia mai stato. Stiamo parlando di un aggiornamento davvero molto importante sotto tanti punti di vista e direi che con l'arrivo del Natale non potevano farci un regalo migliore. Oggi siamo qui in una versione beta, per noi content creator ufficiali di StumbleGuys, per andare a provare quelle che sono le novità. E so tante le novità, ragazzi. E infatti preparatevi perché molto probabilmente durante tutta la settimana usciranno uno barra due video. Tant'è che anche oggi alle 18 sicuramente uscirà un altro video dedicato alla collaborazione tra Hot Wheels e StumbleGuys. Quindi nel video di oggi ci concentreremo su tutto quello che è l'aggiornamento di StumbleGuys in generale, ma alle 18 dedicherò un intero video sulla collaborazione con Hot Wheels. È qualcosa di pazzesco, ma sicuramente già avrete visto le macchinine, le corse, eccetera. Pazzesco. Allora, innanzitutto lasciando un bel mi piace per questo contenuto e se siete contenti. La prima cosa che vi voglio far vedere sono sicuramente le skin. Ah sì, comunque i ragazzi di StumbleGuys mi hanno dato un sacco di gemme e gettoni per andare a sbloccare una marea di skin. Ovviamente però stiamo parlando dell'account beta, eh. Non è che mi regalano gemme e gettoni così a caso, insomma. Qualche skin, qualche gemma ogni tanto sì, ma insomma non proprio così. Detto questo, sfogliamo le skin perché sono davvero tantissime, ragazzi. Sono davvero tante, tante, tante. Vi dirò di più. Con la cam mi metto di qua, almeno le potete vedere per bene. Allora, io le sfoglio e ogni volta che ne trovo una nuova mi fermo e la commentiamo. Per adesso non mi sembra di averne viste di nuove. Non ci sono skin nuove fino alla rarità rara. Abbiamo Mrs. Claus, abbiamo Mieumer, Mieumer, ok. Horus, bellissima Horus, ragazzi, come skin. Abbiamo Lunar Rabbit, il coniglio lunare, va bene. Santa Claus, attenzione, è venuto per rovinarci il Natale, ragazzi, Santa Claus. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti. Sono finite le skin nuove rare. Adesso arriviamo a quelle epiche, ragazzi. Arriviamo a quelle epiche. Ma che cos'è, baby doll? Ma che cos'è, ragazzi? Ma quanto è grossa poi, ragazzi? Guardate in confronto a una skin normale. Ma che cos'è? Poi abbiamo Bunny Knight, il cavaliere coniglio. Sono fissati coi conigli. Retro robot, ok, che sembra un Power Ranger a tutti gli effetti. Abbiamo Army Man, va bene. Ok, tra l'altro ha i piedi incollati come se fosse un vero soldatino dei vecchi pupazzetti. Comunque abbiamo poi Cyber Pink, Retro Guy, Razer Driver, ok. Poi qua abbiamo lo Stumble Santa, è il vero Babbo Natale, quello che ci porta i regali tutti gli anni. Poi, 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 vabbè, questo già l'abbiamo visto, ma adesso ci sta anche Mrs. Invisible. Poi abbiamo Glow Man, Capibara, Nian Beast, ragazzi, skin pazzesca. Mi fa troppo ridere, tra l'altro la copro anch'io con la cam, praticamente. Abbiamo Farao, ok, Faraone, perfetto. Abbiamo Cleopatra, poi ci sta I Love Skele. Bellissimo, ragazzi, anche questa, spettacolare. Poi abbiamo la collaborazione con Minecraft, Pixel Guy. E le skin leggendari finiscono qui. Sì, poi, ragazzi, abbiamo il, oddio, il drago non morto, diciamo. Come per dire lo zombie drago, fighissimo, veramente fighissimo. Molto bello, è la versione praticamente non morta del drago infernale. Fantastico, ragazzi, fantastico. Poi andrò a dedicare un video alle skin, anche perché poi faremo dei giri della ruota, ragazzi. Con tutte quelle gemme e tutti quei gettoni possiamo fare un sacco di giri. Ci divertiremo a trovarle, ma magari nel video di domani. A maggior ragione, lasciate un bel mi piace. Come vi dicevo, nel video delle 18, invece, andremo a provare la mappa di Hot Wheels. Ma adesso vi faccio vedere questa nuova impostazione. Ed è il motivo per cui è l'aggiornamento più grosso di StumbleGuys. Allora, c'è la partita personalizzata adesso. E voi potete selezionare il numero massimo di giocatori che possono entrare. Il numero di round da giocare. Potete scegliere se giocare un solo round, due round o tre round. Ma potete scegliere anche le mappe. Ovviamente ci sono delle limitazioni. Per esempio, se si giocano tre round, al round finale non ci può essere, per esempio, il calcio o le modalità di squadra. Vedete che in alto a sinistra ci sto io sopra. Non so come non coprirvi le cose quest'oggi. Proviamo qui. Vediamo se vi copro qualcosa in quest'altra schermata. Vabbè, comunque, vedete, lì ci sono i numeri di round. Vedete che, per esempio, nel primo round ci sono le mappe di team. Quindi le mappe in cui bisogna giocare a squadra. Ci sono le mappe eliminazione e le race map. Mentre nel terzo round, ragazzi, non ci sono le squadre. Quindi le mappe da squadra. Però per il resto è tutto molto libero. Per esempio, potreste andare a giocare un solo round in 32. Non so. Faccio un esempio in Laser Tracer. Oppure in Bot Bash o in Block Dash. Ragazzi, possiamo fare una marea di video. Questa mappa che vedete buggata qui, rimuovi tutto, era la selezione Hot Wheels Hustle. E' quella mappa lì. E' buggata attualmente la schermatina di Bot Bash. Però tranquilli che sicuramente poi correggeranno. Ah, la cosa bella, ragazzi, è che voi potete anche deselezionare alcune mappe. Però lasciare comunque il dato. Quindi lasciare comunque la casualità. Però, ragazzi, poter giocare nel primo round in 32. Block Dash potrebbe essere divertente. E diciamo che nei prossimi giorni ci divertiremo un botto con tutti questi contenuti. Datemi anche voi delle idee sotto nei commenti. Sono davvero curioso. Allora, ragazzi, già lo so che tanto molti di voi adesso mi chiederanno. Gigi, ma quando organizzerai queste partite personalizzate? Quando farai questi server per registrare questi video? Allora, ovviamente dobbiamo aspettare che esca l'aggiornamento innanzitutto. Quindi aspettiamo che esca e poi vediamo un attimino. Ma poi li andrò a fare sicuramente in like su Twitch. Anzi, vi dico anche che in questi giorni sto streamando davvero tantissimo su Twitch per il nuovo capitolo di Fortnite. Ma arriveranno anche appunto le live di StumbleGuys. Se appena uscirà l'aggiornamento con questi nuovi server personalizzati sicuramente ne andremo a fare davvero tantissimi in live. Quindi vi lascio, come al solito, il link in descrizione per venirmi a seguire in live su Twitch. Ribadisco, in questo momento mi sto concentrando su Fortnite perché è uscito un nuovo capitolo. Vi ricordo che io qui su YouTube ho due canali, anzi tre canali, perché ho questo qui, principale, dove porto più che altro giochi mobile, Supercell, StumbleGuys, eccetera. Poi il secondo canale dedicato completamente a Fortnite e poi un terzo canale per i vlog, dove adesso mi sto incentrando sui food vlog. Trovate tutti i link in descrizione. Ma in particolar modo Twitch appunto per questi server, poi quando uscirà l'aggiornamento. Ok, lo dovevo specificare nel video, mi sono dimenticato, quindi vi ho fatto questa clip extra. Ora vi lascio il video, buona visione. Ma la cosa veramente figa è che potete decidere veramente tutto. Sarebbe carino anche vedere ad un certo punto, per esempio, la possibilità di togliere anche le emote. Per esempio, rendere legali, tra virgolette, o bloccate le emote. Quello sarebbe davvero tanta, tanta roba, però questo è l'aggiornamento che volevamo, gli server privati. Ah, e poi adesso vi faccio vedere il funzionamento. Potete decidere se riempire le posizioni vuote con Stumblr controllati dal computer, quindi i bot, oppure no, banalmente. E poi, una volta che avete creato, c'è la creazione del gruppo e, come al solito, ci sarà il codice. Ovviamente, ragazzi, non provate ad entrare in questa mappa, perché tanto non l'andremo a giocare. Sto registrando, quindi non l'andremo a giocare. Che dire, ragazzi, è davvero una roba incredibile, secondo me. Era proprio l'aggiornamento che ci voleva. Ora, a parte le skin, che sono davvero tante, dovrebbero essere skin che escono presente a dicembre, gennaio, insomma. Usciranno nelle prossime settimane, non è che usciranno tutte insieme. Vediamo poi se si inventeranno alcune ruote per Natale, alcune offerte per Natale. Sicuramente io vi terrò aggiornati qui sul canale. Non vedo l'ora che escano veramente tutte queste skin, quindi che le possiamo provare effettivamente in game, sul mio account. Perché, ragazzi, sono davvero, davvero, davvero in hype. Non vedo seriamente l'ora. Fatemi sapere, ovviamente, la vostra sotto con un commento. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Lasciate un bel mi piace e preparatevi perché con queste partite personalizzate ci divertiremo veramente, veramente tanto. Ah, e poi non vi dimenticate che dobbiamo andare a cercare tutte le skin che ci mancano con tutte quelle gemme e tutti quei gettoni. Che sono un bel po', eh. Speriamo di riuscire poi a trovare tutto. Niente, ragazzi, per me appunto è tutto. Ci troviamo dopo alle 18 con il video sulla mappa di Hot Wheels.